Indizi di una fissione nucleare all'interno di uno dei reattori della centrale di Fukushima sono stati registrati dai sistemi di monitoraggio. In particolare è stata rilevata la presenza di gas Xenon e Krypton, tutti indicatori dell'avvenuta fissione dell'uranio. Il principale obiettivo dei tecnici è ora di impedire l'innesco di una reazione a catena.